Ogni promessa è un debito. Abbiamo raggiunto e superato i 100 like sulla guida su come scegliere un corso chiaramente di programmazione e avevo promesso che se avessimo superato quel limite avrei fatto un video su come scegliere un linguaggio di programmazione chiaramente da studiare. Quindi eccomi qua pronto per fare di nuovo questa guida. Prima di tutto, sigla! Ok, ci sono un po' di premesse da fare. La prima più importante di tutte è lasciare un like al video, condividerlo, iscriversi al canale, attivare la campanella, entrare in commenti su Discord, seguire il canale Telegram e quant'altro. La seconda più importante di tutte è, allora, come detto in più occasioni, scegliere un linguaggio di programmazione da studiare è un'attività che ha una discreta importanza. Stiamo parlando comunque di un'attività che può fare chiunque a qualsiasi punto della propria carriera. Sia persone che partono da zero e quindi scelgono il primo linguaggio a studiare, sia persone che magari hanno già una certa esperienza e quindi scelgono anche qualcosa con cui migliorare le proprie skill. Ci sono poi diverse considerazioni legate proprio a ogni specifico momento anche della propria carriera. Per chi parte da zero, la scelta del primo linguaggio diventa un'attività spesso, come dire, determinante, o almeno questo è quello che percepiscono le persone. Quindi normalmente le persone fanno un sacco di pensieri su cosa dovrei studiare, meglio JavaScript, meglio Python, meglio PHP, meglio Java, come lo scelgo. E normalmente questa scelta è poi indirizzata da quello che viene visto, in sostanza. A persone che magari si documentano anche attraverso video YouTube, tutorial e quant'altro, quindi percepiscono che magari determinati linguaggi sono più utilizzati di altri. Ed è il motivo per cui tante persone partono con il mondo front-end, HTML, CSS e JavaScript. Perché? Perché ne vedono una grande quantità, ok? Senza capire o sapere se effettivamente poi quel linguaggio o quell'ambito è particolarmente adatto alle proprie caratteristiche. Altre scelte che le persone normalmente fanno, questo anche un po' più non legato esclusivamente a chi inizia, ma in linea generale, a come va il mercato. Ok? Quindi normalmente dico, ma ho visto un po' di offerte di lavoro, ho visto che viene chiesto tanto PHP, quindi mi sono messo a studiare PHP. Ok? Tutte queste scelte sono più che lecite, non c'è un giusto o sbagliato, però ci sono delle considerazioni da fare. Allora, prima di tutto, orientarsi esclusivamente rispetto a quello che gli altri dimostrano di sapere, di conoscere o di divulgare, è, come dire, un cercare di trovare delle informazioni all'esterno della nostra persona. Cercando all'esterno non abbiamo realmente percezione se effettivamente queste poi siano nozioni adatte al nostro specifico contesto. Quindi se trovate una grande quantità di nozioni che riguardano, per esempio, il mondo front-end, che, ripeto, è quello tipico HTML, CSS, JavaScript, non vuol dire necessariamente che il mondo sta andando in quella direzione, quindi quello è il punto da cui iniziare. Lo stesso dico così anche per il mercato. Se viene richiesta una determinata competenza, hanno detto che allora voi dobbiate necessariamente acquisirla. Quindi iniziamo a parlare di errori, errori che commettono le persone nel fare questa tipologia di scelte. Prima di tutto cercano di, come dire, autoconvincersi che quello che viene visto come diffuso sia adatto anche alla propria situazione. Questa linea generale, abbiamo parlato di contesto generale, quindi vedo che è una tecnologia molto diffusa, se ne parla tanto, allora me la studio. Oppure vedo che il mercato chiede tanto di una determinata tecnologia, allora me la studio. Posto che questo, in modo estremamente, come dire, ingenuo, succede per qualsiasi contesto. Prendete un altro linguaggio o un altro ambito, come può essere il mondo back-end, ne troverete altri tanti tutorial o corsi e altre tante offerte lavorative. Cambiate linguaggio e le cose non cambiano di molto. Quindi basterebbe semplicemente guardare da un'altra parte e vi rendereste conto esattamente delle stesse cose. Quindi si aprono poi tutta una serie di ragionamenti. Ma allora, se tanto come mi muovo trovo sia nozioni che mercato, allora su che cosa baso la scelta di un linguaggio da studiare? E qui ci sono ulteriori ragionamenti da fare. Prima di tutto, una persona, per esempio, che parte da zero, si fa l'idea che il primo linguaggio da apprendere sia quello che poi le dà lo slancio per la vita, sia il linguaggio che si porta indietro per sempre. Questo però non è mai vero. Io ho iniziato a studiare... Cos'è che ho iniziato a studiare? Ho iniziato a studiare Turbo Pascal a scuola. Ovviamente in quel caso non l'avevo scelto, mi è stato imposto. Ma non è stato assolutamente il linguaggio con cui ho iniziato. Poi sono passato a Perl perché è il linguaggio che veniva utilizzato nella prima azienda in cui lavoravo. E anche quello non è stato il linguaggio della vita. Poi sono passato a PHP, poi sono passato a JavaScript e così via. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un percorso di carriera, ma anche di studio, non dovete particolarmente considerare i primi linguaggi come quelli che vi daranno lo slancio nella carriera. Non sono necessariamente il biglietto d'avviso con cui vi presentate. Quindi se oggi iniziate a studiare JavaScript perché vedete che il mondo front-end vi incuriosisce per via di tutti gli altri tutorial, e su questo ci tornerò, non vuol dire che JavaScript sarà il linguaggio con cui effettivamente entrerete nel mondo del lavoro. Perché? Perché nel frattempo può succedere di tutto. Primo. Secondo, il linguaggio con cui iniziate deve essere quello che vi apre le porte alla mentalità. Quindi non dovete concentrarvi tanto su quello che quel linguaggio vi permetterà di fare in termini di opportunità lavorative, se è il primo, ma semplicemente quello che vi trasmetterà in termini di metodologie di apprendimento, di metodologie di programmazione, di mentalità da developer. E questo lo potete fare con un qualsiasi linguaggio. Lo potete fare con JavaScript, con Python, con PHP, con C++, con tutta una serie di linguaggi. Praticamente non fa alcuna differenza il linguaggio con cui iniziate. Dove fa la differenza? Esattamente come per quanto riguarda i corsi. Sul tempo che avete a disposizione. Per cui l'altra volta facciamo il discorso. Se dovete affrontare un corso e avete un lasso di tempo non particolarmente ampio a disposizione, per cui magari non siete più giovanissimi, avete poco tempo, dovete conciliarlo magari con il lavoro, tutta una serie di cose, allora la scelta del linguaggio diventa anche un'ottimizzazione del tempo. Allora da questo punto di vista è necessario fare un approfondimento maggiore per capire che cosa può portarvi a raggiungere un risultato nel minor tempo possibile. Fare la strada più efficiente, come anche nel caso dei corsi. Ma non deve essere necessaria, cioè non è una condizione obbligatoria questa. Può essere anche semplicemente una situazione in cui si cerca un'ottimizzazione perché il tempo che si ha a disposizione in termini di essere ancora validi e avere dell'opportunità sul mercato non è poi così tanto. Quindi va bene ottimizzare, va bene andare direttamente al sodo perché è quello che vi permette di arrivare prima. Se questa condizione non c'è e non si presenta, allora andate tranquillamente con il linguaggio che vi apre più porte possibili. Non dal punto di vista della carriera ma dal punto di vista di campi di applicazione. E qui rientra l'altro discorso che volevo fare. Se non avete mai visto nulla della programmazione, ma anche se l'avete già affrontata, magari state pensando di fare un approfondimento su altri linguaggi, dovete pensare al contesto. Che cosa vi fa fare quel linguaggio? Dove viene utilizzato? In quale tipologia di aziende? In quale tipologia di ambiti? Se per quegli ambiti siete particolarmente portati o portate? Ci sono tutta una serie di dinamiche che ruotano attorno ai linguaggi di programmazione che una persona normalmente, senza un minimo di informazione, senza un minimo di documentazione, non può necessariamente sapere. Per cui, se ad oggi una persona vede che ci sono tante opportunità, per esempio su Java, cosa che è concreta, ci sono, deve sapere poi però dove lo porta. Deve sapere che cosa viene fatto oggi con Java. Allora, sulla base di questo una persona potrebbe dire, ok, magari Java mi piace come linguaggio, mi interessa anche, però non mi piace il contesto in cui viene utilizzato. Mi può piacere allo stesso modo PHP, ma anche lì, magari non mi piace, non lo trovo stimolante. Ci possono essere tutta una serie di fattori, ma se una persona queste cose non le sa, non può fare delle valutazioni oggettive. Così non può sapere neanche, a prescindere, e qui diciamo vale un po' per tutti, se i contesti in cui vengono utilizzati determinati linguaggi sono effettivamente, come dire, non dico alla portata, perché alla portata può essere tranquillamente tutto, però sono, come dire, adatti alla persona. Ci sono persone che sono più adatte a stare in un contesto, per quanto riguarda il mondo web, per esempio, in un contesto più legato a quello che si vede, ok, quindi a gestire tutto il mondo delle interfacce e quant'altro. Altre che sono invece più a loro agio con il mondo dei dati, altri che magari preferiscono invece smanettare anche con l'hardware, ok. Quindi ci sono diverse attitudini che le persone possono avere. Queste attitudini devono in qualche modo matchare con anche quello che viene fatto con determinati linguaggi. Quindi è inutile che, se a me interessa particolarmente avere a che fare con l'hardware, mi vado a studiare JavaScript, perché ci farò ben poco. Magari è più utile impararsi un Python, un C++, o un C che viene utilizzato in determinati contesti. Quindi è importante conoscere queste suddivisioni per poter fare delle scelte sulla base di quelle che sono i nostri obiettivi, le nostre attitudini, il tempo che abbiamo a disposizione e quello che effettivamente vogliamo fare. Un po' come succedeva anche per i corsi. Vogliamo studiare qualcosa semplicemente per il piacere di farlo? Allora va bene qualsiasi cosa. Vogliamo fare una scelta perché vogliamo andare a colpire un settore di mercato? Vogliamo inserirci a quel settore di mercato? Allora dobbiamo sapere in quel settore di mercato che cosa viene utilizzato. Quindi fare, per utilizzare un termine tecnico, fare reverse engineering. Prendiamo settori diversi. Prendiamo la consulenza enterprise. Cosa viene utilizzato nella consulenza enterprise? Che cosa viene utilizzato nell'azienda di prodotto? Che cosa viene utilizzato nell'IoT? Facendo queste scelte, queste valutazioni, possiamo capire meglio che cosa possiamo utilizzare. Quindi adesso cosa voglio fare? Voglio fare proprio questo. Voglio fare un'attività di reverse engineering. Prendiamo i vari settori e esaminiamo settore per settore che cosa viene utilizzato. Sulla base di questo, allora potete fare delle scelte un po' più oculate. Quindi abbiamo la nostra bella board di Miro e iniziamo a fare un po' di ragionamenti come abbiamo fatto la scorsa volta. Quindi iniziamo a dire che abbiamo... Andiamo per ambiti. Quindi iniziamo per ambiti, diciamo così, molto generali. Parliamo proprio di tipologie di aziende. Quindi abbiamo per esempio il mondo della consulenza enterprise. Scriviamo anche body rental che non fa male ricordarlo. Abbiamo il mondo della consulenza normale, per così dire. Abbiamo aziende di prodotto. Abbiamo le web agency. Abbiamo le software house. Indicativamente questi sono le macro aree del mondo lavorativo. Consulenza enterprise body rental. Qui tipicamente cosa si usa? Allora consulenza e enterprise body rental. È un mondo che ha come clienti prevalentemente grandi aziende, per cui per questo enterprise. Si parla di grandi aziende, clienti, quindi possono essere banche, possono essere assicurazioni, possono essere settore automotive, quindi grandi aziende produttrici di automobili e quant'altro. Cosa si fa tipicamente in questo mondo? In questo mondo solitamente si fanno gestionali, si fanno applicazioni web, in qualche caso anche mobile. La stragrande maggioranza di quello che viene fatto in questo contesto sono queste tipologie di attività. Quindi, di conseguenza, su cosa si lavora molto, su quali tecnologie si lavora molto in questo contesto? Si utilizza moltissimo Java. Perché Java? Perché Java è un linguaggio robusto, è un linguaggio adatto a sviluppare anche applicazioni molto complesse, con una codebase anche molto ampia. Stesso discorso vale magari anche per C Sharp. Si utilizza molto anche PHP, non tanto per gli stessi motivi, ma per un discorso di età. Cioè PHP è un linguaggio molto longevo, quindi oggi in circolazione c'è molto codice anche legacy, legato a PHP. Si utilizza tranquillamente anche per nuovi sviluppi, quindi non è un linguaggio morto, così come Java non è assolutamente morto. Però sicuramente Java e PHP vengono utilizzati anche per mantenimento di software già esistente. Quindi, tendenzialmente in questi mondi vengono utilizzati questi linguaggi perché si è sviluppato per tanto tempo in questi contesti. E quindi c'è molto software da mantenere rispetto a software nuovo che viene creato. Java, C Sharp e PHP sono chiaramente linguaggi server-side, quindi backend. Tendenzialmente, se si parla di web application, tendenzialmente si parla di Angular. Quindi in questo mondo qua, Angular sicuramente la fa da padrone rispetto a un React, dove React dove... Ah, ho dimenticato una tipologia di azienda, ragazzi e ragazze. Le startup. Me ne sono ricordato perché? Perché nelle aziende di prodotto e nelle startup, invece, se parliamo di mondo front-end, si parla di React. Perché? Non perché sia meglio o peggio, eh. Attenzione, tutto quello che vi dico non ha assolutamente una, come dire, una valutazione dal punto di vista di è meglio uno, è meglio l'altro. Sono cose che vengono utilizzate in determinati contesti, è importante conoscerli per fare delle scelte, ma non c'è un migliore o un peggiore. Però perché viene utilizzato React nelle aziende di prodotto e nelle startup rispetto ad un Angular? Andiamo per esclusione. Angular è strutturato. È un framework veramente complesso, che fa fare tante cose, ed è particolarmente adatto a applicazioni complesse. Quindi viene utilizzato in contesti in cui ci sia questa necessità. Le aziende di prodotto e le startup magari hanno bisogno di fare cose piccole, veloci, non tanto in termini di performance, ma realizzarla velocemente, in cui ci sia anche una curva di ingresso relativamente bassa per comprendere una nuova tecnologia. React, da questo punto di vista, è perfetto, perché comunque non è necessario utilizzare tutto, o comunque portarsi dietro tutta la complessità di un framework, come può essere Angular, per fare magari una piccola cosa. Quindi React viene prevalentemente utilizzato in questi contesti, dove c'è magari un po' più di dinamismo. React rispetto ad Angular ha meno regole, il che non è né un vantaggio né uno svantaggio, dipende dal contesto, e quindi permette di fare cose anche un po' fuori dagli schemi. Poi abbiamo la consulenza. Ho voluto differenziare queste due tipologie di consulenza. Giustamente qualcuno si potrebbe chiedere ma cosa cambia da uno all'altro. La tipologia di clienti, né più né meno, e anche chiaramente la dimensione dei progetti. Queste tipologie di aziende qua si rivolgono a clienti di un certo tipo, quindi fintech, automotive, assicurazioni, principalmente quelli. Tutte le altre aziende di consulenze piccole o grandi che siano, quindi qui stiamo parlando di PMI tendenzialmente, si rivolgono invece a tutta un'altra tipologia di clienti, dal cliente più piccolo al cliente un po' più grande. Qui si sviluppa di tutto. Si sviluppa dalla web app, dall'applicazione, dalle app mobile, anche qui gestionali, dash, piattaforme, quant'altro. Quindi un po' di tutto. Tecnologie che vengono utilizzate in questi contesti, anche qui si trova un po' di tutto. Innanzitutto magari bisognerebbe iniziare a differenziare se un'azienda di consulenza lavora in contesto Microsoft, per esempio. Allora se siamo in contesto Microsoft, probabilmente come tecnologia troverete Net, troverete AspNet, Core, AspNet, troverete C Sharp e così via. Se parliamo invece di altri tipologi di contesti, magari troverete Node.js, potreste trovare PHP. Se l'azienda poi fa consulenza sul mondo cloud, allora magari troverete più facilmente Go. Chiaramente tutto quello che riguarda il mondo AWS, però qui non è tanto un linguaggio, si parla di tecnologie. Chiaramente qui vi sto facendo una differenziazione per tipologie di aziende. Bisognerebbe poi fare una differenziazione per contesto, quindi mondo IoT, mondo web e quant'altro, adesso arriveremo anche lì. Quindi aziende che fanno consulenza hanno una pletora anche di linguaggi. Lato front-end stiamo parlando di applicazioni web, quindi mondo web. Qui c'è un po' di tutto, stiamo parlando magari di PHP, stiamo parlando ancora di Node.js. Lato front-end potrebbe essere React, Angular e anche Vue in alcuni contesti. Non c'è una, ce la farò, una particolare discriminante. Vue forse utilizzato per progetti un po' più piccolini, però tendenzialmente sono questi. Aziende di prodotto, anche qui ho menzionato il discorso di React, non è una regola, ok? Dipende dal prodotto che viene fatto. Quindi anche qui gli stack possono essere tranquillamente variegati, esattamente come il mondo della consulenza. Direi che per le aziende di prodotto possono verificarsi esattamente le stesse situazioni. Dipende da quello che deve essere sviluppato, quindi qui andremo dopo nel dettaglio quando parleremo invece di contesto lavorativo, non in termini di azienda, ma in termini di applicazione pratica. Nelle start-up, anche qui c'è un po' di tutto. Le start-up hanno magari il vantaggio che sono un po' più contesti dinamici, quindi magari tendono a utilizzare anche qualcosa di un po' più moderno perché nascono e muoiono anche molto velocemente, quindi magari si può sperimentare un po' di più. Non è detto che questo porti necessariamente a dei vantaggi. Però anche qui in start-up possiamo parlare magari anche di Python, possiamo parlare di Node.js ancora, possiamo parlare di Go. Anche qui dipende molto da quello che fanno. Web agency sono invece contesti, lo dice il termine, più legati al mondo web, quindi qui troverete facilmente JavaScript. Potreste trovare ancora molte web agency che lavorano in WordPress, quindi qui parliamo comunque di PHP, JS e React, se usano determinate versioni di WordPress. React stesso. Angular magari un po' meno perché le web agency fanno più progetti web, come possono essere siti, commerce, cose di questo tipo. In questi contesti qua Angular è usato un po' di meno, quindi si preferisce magari invece appoggiarsi a un React oppure a un Vue stesso. Software house invece fanno cose un po' più diverse, magari fanno software in campo IoT, e adesso poi qui andremo nel dettaglio del discorso IoT, quindi magari ci sono applicazioni scritte in Python, scritte in C++, scritte in C, ci sono diverse tipologie di tecnologie. Ho dimenticato ancora, no, in realtà non l'ho dimenticato, perché poi le aziende di prodotto si possono differenziare in vari ambiti. Quindi, diciamo, fatta questa grossa disamina iniziale dalla tipologia di azienda, scusate, qui nelle software house non necessariamente devono fare software IoT, ma anche gestionali, insomma, cosa che abbiamo già visto, magari viene utilizzato anche qui C Sharp e Java, per esempio. Ho fatto questa grossa disamina per quanto riguarda le tipologie di azienda, adesso invece passiamo a vedere le tipologie di campi di applicazione. Per quanto riguarda i settori, invece, i campi di applicazione, quello che vi consiglio di seguire è roadmap.sh, che è una piattaforma che, se non conoscete, vi suggerisco per quanto riguarda proprio anche avere un'idea dei vari campi applicativi, di quali tecnologie vengono utilizzate a seconda dei campi applicativi. Per esempio, mondo front-end vi fa vedere tutte quelle che sono le tecnologie conosciute, o meglio, che vengono utilizzate in quei contesti. Si parla HTML, CSS, JavaScript, e poi ci sono tutta una serie di altri framework, librerie o tecnologie che dovrebbero essere conosciute. Si parla, per esempio, di librerie UI, si parla di framework. Questo è già anche abbastanza avanzato perché non parla... Eccoli qua. React View e Angular, suggeriti anche Svelte, Solid e Quick, che sono un po' più recenti. Ecco, magari, attenzione anche alla scelta di questi framework, perché magari non trovano ancora particolarmente applicazione dal punto di vista del lavoro, nel mondo del lavoro. Per esempio, Quick sta prendendo rapidamente piede, però non è ancora così tanto diffuso da poter giustificare, magari, uno studio approfondito per poterlo portare in contesto lavorativo. Statistiche di questo tipo, per esempio, le potete trovare tranquillamente su ecco, Stack Overflow, le statistiche di Stack Overflow. Per esempio, 2023, developer survey. No, questo è un articolo, non è quello ufficiale. Eccola qua. Qui potete vedere un po' tutto. Andate, per esempio, su Technology. Ci sono le statistiche. Eccoli qua. Di quelli che sono i linguaggi più diffusi, non i più necessariamente più utilizzati, però i più diffusi. Se andiamo a vedere i framework, eccolo qua. Quick è l'ultimo in questo momento. Quindi, magari, bisogna fare attenzione a queste combinazioni per poter fare delle scelte. Però, sicuramente, questa risorsa, roadmap.sh, è ottima per capire già, a seconda di determinati contesti, quali sono le tecnologie. Per esempio, c'è Mondo Frontend, Backend, DevOps, Fullstack, Android, AI e quant'altro. Adesso, se volete, un pochino facciamo una disamina. Cioè, sono veramente troppe da poterle vedere tutte. Per esempio, andiamo a vedere Game Developer, che è una cosa, comunque, magari non particolarmente nota. Ecco, ci sono comunque delle nozioni da conoscere, chiaramente a seconda di quello che è l'ambito, a prescindere. Quindi, è importante capire che non è il linguaggio che fa l'ambito, ma sono tutte le altre nozioni a corredo. Per esempio, per quanto riguarda il game development, non si parla semplicemente di linguaggi di programmazione, che ci sono, e vedete, sono C, C++, C Sharp, Assembly, Rust, Python, ma tutta una serie di altre nozioni, come per esempio, ergonometria, geometria, matrici, la fisica, perché c'è nei videogame. Quindi, ogni contesto è un po' a parte, e deve essere esaminato nel dettaglio. Andiamo a prendere, magari, quelli un po' più noti, come per esempio, mondo backend, mondo backend a livello di linguaggi di programmazione. Come vedete, si parla di Java, JavaScript, C Sharp, Python, PHP, Ruby, magari Ruby un po' meno, un po' meno diffuso, ripeto, rispetto agli altri, Rust, Go. Per quanto riguarda i database, abbiamo database relazionali, quindi Postgres, MySQL, MariaDB, Microsoft SQL, Oracle, database non relazionali, quindi, insomma, c'è veramente tanta roba per ogni contesto. Quindi, vedete bene come ogni ambito abbia le proprie peculiarità. Andiamo a vedere, per esempio, quello che è uno degli ambiti particolarmente in voga nell'ultimo periodo, che è quello dell'AI. Qui si parla di, andiamo a vedere, coding, questa è fatta un po' diversa, come un roadmap, un po' nuova, si parla di Python, tendenzialmente. Andiamo a vedere se ci sono anche altre cose che vengono suggerite, prevalentemente Python. Ovviamente, roadmap.sh è uno strumento, non è la Bibbia, ok? È fatto molto bene, perché è fatto a livello open source, quindi c'è tanto di collaborazione, è un progetto gestito e utilizzato, dove vengono ricevute contribuzioni continue dalla community internazionale, quindi è abbastanza attendibile, ma non è detto che sia effettivamente la Bibbia. Per esempio, qui comunque vengono dati come nozioni dei corsi, non so neanche cosa sono, corsi di Corsera, suppongo. Corsera, infatti, non è detto che queste siano le risorse necessariamente migliori, però è molto utile per fare delle valutazioni. Quindi, in sostanza, quello che è importante capire, fatemi ritornare a parlare direttamente con voi, Per scegliere un linguaggio di programmazione, bisogna bene studiare il contesto in cui verrà applicato. Vi ho fatto vedere determinati esempi. Per esempio, mondo consulenza enterprise. Consulenza enterprise sono grandi aziende, che lavorano per altre grandi aziende, che hanno come campi di applicazione, per esempio, fintech e quant'altro. Vi piace? Mi piace il mondo fintech? Vi piace sviluppare gestionali, magari per banche? Che vi ispira questa tipologia di lavoro? Se sì, fantastico. Allora sapete che quelle tecnologie che vi ho fatto vedere vi porteranno a un determinato risultato. Non vi interessa? Allora lasciate a parte e andate a studiare magari altri contesti. Andate a vedervi magari tecnologie che vengono utilizzate in contesti più specifici, come può essere il game development, può essere lo sviluppo di applicazioni mobile, magari con Flutter, allora dovete studiare magari Dart. Cioè, la scelta va fatta molto in funzione di quello che è il risultato che volete ottenere. Però, come per i corsi, se non avete particolarmente idea di quello che sarà il risultato finale che volete effettivamente ottenere, allora meglio stare un po' più sul generico. Cosa vuol dire stare sul generico? Andare a studiarsi dei linguaggi che sono un po' più semplici, che però sono un po' più trasversali, un po' più orizzontali. Faccio l'esempio di Python. Python è un linguaggio che è estremamente facile da apprendere, viene utilizzato anche nelle scuole, però si può utilizzare, adesso non siamo andati a vedere tutti gli schemi di roadmap SH, però se andiamo a vedere back-end development c'è Python, se andiamo a vedere AI development c'è Python, c'era anche nel discorso game, quindi sono già, per esempio, tre ambiti in cui potete utilizzare un linguaggio solo, o meglio, con la conoscenza di un linguaggio lo potete applicare in tre ambiti diversi. E ce ne sono anche di più, perché sicuramente viene utilizzato anche nell'IoT, nella cyber security. Sono già cinque, quindi con un linguaggio così orizzontale possiamo provare a sperimentare in tanti campi per poterci fare un'idea propria, facciamo delle esperienze. Questo è il discorso principale. Non è tanto determinante il linguaggio che volete andare a imparare, ma quello che ci potete fare con quel linguaggio. Quello che ci potete fare, però, non lo conoscete a priori. Potete vedere dalle roadmap che cosa è necessario imparare di correlato ad un linguaggio per poter affondare le mani in un contesto, però una volta capito quello dovete necessariamente sperimentare con le vostre mani per capire se effettivamente è qualcosa che vi piace fare di cui avete interesse, su cui avete interesse investire del tempo per avere un obiettivo. Poi, anche qui, come la scorsa volta, potete avere obiettivo lavorativo e lavorativo. Se è non lavorativo, fate quello che vi pare. Impiegate semplicemente il vostro tempo e studiate. Se è lavorativo, allora dovete andare in una direzione ben delineata e estremamente chiara. Quindi, credo di avervi fatto una panoramica abbastanza dettagliata, spero. Fatemi sapere cosa ne pensate. Chiaramente avete sempre a disposizione il box dei commenti, avete a disposizione la community Discord dove possiamo continuare a discuterne. Abbiamo a disposizione LinkedIn, abbiamo a disposizione il gruppo Telegram, c'è veramente tanto. Ci sono le Open Mentorship di Tomorrow Debsk per cui, se volete, potete entrare e partecipare a questa attività per chiedere anche ulteriori informazioni, per farvi un'idea, avere un, come dire, anche un confronto per capire se effettivamente quello che voi avete immaginato per il vostro percorso, per il vostro futuro, effettivamente, è valido e ha un senso. E detto questo, vi saluto e mi ringrazio di avermi seguito fin qui e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!